In Vino Civitas è una vetrina per tante realtà per poter esporre i propri prodotti e le proprie eccellenze in questo caso parliamo con lo stede di Bevande Futuriste, un nome molto particolare Allora, vi spiego un po' i nostri concetti questa è una bella vetrina perché ci permette di affacciarci alla ristorazione anche se è un contesto molto dedicato al vino, noi facciamo tutt'altri prodotti facciamo da succhi di frutta, bibite, sodate quindi anche qualche cosa da accompagnare alla ristorazione, tipo una cola biologica, una gazzosa un modo di bere più naturale Bevande Futuriste è un concetto, veramente un bel nome un'azienda che nasce nel 2014 con un progetto ben definito di portare nel mondo dell'oreca sottotanto prodotti di eccellenza e di alta qualità partendo da una linea di succhi di frutta biologici certificati a una linea di tè verdi con infusi a freddo e aromi naturali bibite frizzanti della tradizione tipo la cola, il chinotto, la gazzosa sempre biologici e facendo anche una linea di sodati premium per la coccetelleria dalla tonica, al ginger beer, al ginger ale, alla lemon prodotti per fare alta miscelazione da bevuta liscia